Devo inventarmi qualcosa per la settimana pedagolosa. Ma... per me sbaglio oggi. Frau Baker? Ja? E' un po' fattore? Ho avuto una fantastica idea. Questo è un po' di ridi. Ho pensato che potrei invitare Steve Hopin e farci spiegare come fruttuazioni quantitiche del vuoto possono innescare un Big Bang. Nein, Herr Professor, Dottor Hawking è sicuramente troppo impegnato con le nuove distrazioni degli episodi dei Simpsons. Grazie, Frau Baker, non ci avevo pensato. Non ho pensato neanche quando si è messi alzio. Ho avuto, Herr Professor? Devo pensare a qualcosa. Sarebbe il caso, sì. Vediamo. Potrei far fare dei fumetti, ragazzi, scattando delle foto. Chiaramente dovrei farmi aiutare a far scrivere la sceneggiatura ai ragazzi da una prof di lettere. Le immagini poi le elaboreremo nel programma Centro. Impagineremo poi il tutto con Draw, il programma di LibreOffice. Si può fare! Si può fare! Un saluto. Un saluto. No, non c'è nessun parenti aifè. Un saluto. Un saluto.